Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. Sulla Firenze Mare, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peredola, tra Prato Ovest e BVIA 11A1, tutto verso Firenze e Infipili, tra la Strassigna e Firenze Scandici, ancora una volta in direzione del capoluogo. Per il traffico urbano di Firenze, possibili rallentamenti sui viali di circonvallazione. Nell'ambito dei cantieri tramvia, anche quest'oggi, sono in programma lavori di asfaltatura in via Gianni, in direzione di Careggi, con chiusura in orale notturno da Piazza Viesi a Piazza Leopoldo. Lungo la linea 2, fino a domani, lavori di protezione delle rotaie, tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!